bentornati nel canale delle burnio come da video precedente eccomi qua sono tornato a casa e c'è l'update dell'aggiornamento della campagna modifica che era dal 19 dicembre scadeva oggi se non sbaglio il 9 oggi è l'8 il 9 è il 9 però ho letto qui che la manutenzione di oggi vabbè hanno fatto casino alcuni utenti riceveranno 199 monete my club nei prossimi giorni per chi aveva fatto casini come al solito vabbè per la campagna era di modificare una squadra il nome o creare una maglietta io avevo creato le magliette vabbè questo è uno poi il programma di oggi oggi non c'è in predefinito oggi salta oggi c'è solo personalizzato cioè il match day con le squadre personalizzate che non giocherò la campagna accessi quella della prossima settimana però dal 13 vedete osservatore 5 stelle ti danno quello del Bayern Monaco no del Manchester United c'è un altro Barcellona e dopo ti daranno uno 5 stelle della Juve è visto insomma ti danno quelle delle 4 la poi vabbè i preparatori il 14 per 10 il 15 preparatore di abilità per 10 il 16 di posizione per 10 ti danno 520 monete ancora il 17 gennaio il 18 10 i contratti e il 19 l'osservatore 5 stelle ah te ne danno due osservatori 5 stelle vedi sia il 13 che il 19 ah infatti uno è Juve l'altro è Manchester così hanno finito ok qua è il programma della prossima settimana che è serie a perché mettono serie a scusa casa sala in casa la serie a team in trasferta la liga ecco va beh abbiamo visto saranno gioie o saranno smadonne per me mi hanno risparato in divisione 7 c'è più di dice cioè so già più di 17 punti non ho fatto stasettimana eh partite boh non so stranissime cioè robe boh incomprensibili cioè io vabbè qua non guardiamo guardiamo dopo ho visto che c'è anche un Neymar 1500 gp 15.000 gp sono arrivato ottavo non settimo se di nuovo è divisione 6 strano chissà come mai ecco cioè mi hanno portato al di sotto di quello che sono partito ero partito da 4 90 4 92 sono ho finito a 4 81 con tutte le partite che ho giocato ho ben sette sconfitte in più delle vittorie e ricordiamo che ero arrivato alla pari tipo due settimane fa prima delle feste di natale mi hanno risparato di nuovo sette sconfitte in più delle vittorie percentuale 28 36.6 gol segnati 1 e 39 gol subito 1 e 51 vittoria consecutiva 0 perché l'ultima ho persa 0 di 6 una bomba complimenti vabbè usciamo da sto schifo posto in arrivo 1 preparatore di abilità le monete la per la campagna non me l'hanno manco date ma tante monete non mi hanno dato ne ho 840 di monete vabbè andiamo a creare la squadra che tanto l'ho già cancellata l'altra quindi mi tocca rifarla perché ragazzi non ce la faccio più lo dico ogni video io non ce la faccio più a giocare a sta roba cioè attacco attacco ma non segno ragazzi attacco attacco ma non segno loro fanno un tiro in porta mi segnano vabbè creiamo da 0 cioè partita dove o vado ad attaccare a tutta a tutta bigo a tutta forza proprio tutta forza e non riesco a fare un cazzo o partita è dove dove la mia squadra si intoppa sempre intoppa sempre in qualcosa intoppano sempre sempre si intoppano io non capisco guarda non so veramente cosa fare guarda mi sono veramente rotto le balle cioè non è possibile guarda non è veramente possibile allora qua contratti che ho da rinnovare altro che eeeh valanza è a mettiamo un cusci per mettiamo un dike da eeeh vabbè vabbè da vomito fiori cioè ma state adesso vabbè allora stasettimana se perché Lukaku non l'hanno fatto biscuit che ha fatto doppietta no vabbè lasciamo perdere vabbè lasciamo stare vabbè la porti in panca Lukaku eeeh oh 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 misteri proprio mistero mistero alè mistero mi 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 mistero anche qua con la asnia che si è di perfetto un contratto lui ne ha 7 però quanti ne aveva lui 3 in quello la mettevo cross Slimani ne ha 1, Brando ne ha, Vierani ne ha 6 Un terzino, quest'altro portiere, ma se di Ora la se di, ora la se sottersteg, ma ne c'avo E chi posso poter parlare se ne ha 7, che c'ho la canzella Ecco qua Non vediamo, no non rinnamo neanche i contratti perché faccio i play, comunque questa sarebbe la squadra Ecco qua, cioè se settimana ho B, A, A, B, B, tutto il centrocampo B E ho tutti i cosi, quanto fa gioco a canzella a sinistra? 86, vabbè, e lui? 86, si uguale, Van Dijk, 84, Varane, 82 Vabbè, al massimo metto Gintar, che fa 91 Esatto Questa è la squadra, i contratti poi, vabbè, Gintar sicuramente li lo rinnovo perché non lo troviamo Ne ho solo 5, me ne sono stati Questo rinnoviamo e Salah lo rinnoviamo Ronaldo non lo rinnovo perché vado a fare il pull Preparatori di abilità per 10, ma non ho nessuno da dargli perché li ho già dati a tutti Allora, partirei prima dalle partite Allora, sfide di oggi Vabbè, c'è sempre il match day Poi c'è la Coppa Challenge in questa contro Com Che devo ancora fare Worldwide Claps O l'ho già fatta? No, lo devo ancora fare Vabbè, lo farò con la squadra 4 stelle E... E poi cosa c'è? La solita Coppa Challenge online 10.000 GP dopo 3 di fila E il match day solito Andiamo a vedere i giocatori Allora, agenti Hanno aggiunto le legend Fan choice league Dopo vediamo cos'è Allora, le legend Andiamo al profilo Allora, c'è Cristiano Ronaldo Hanno messo Polscolo 87 Giorca Flav 885 L'anno scorso Era 84 C'è Petit che è rimasto 84 Come l'anno scorso C'è Ljungberg 84 Come l'anno scorso E basta, mi sa Avevo visto che erano solo quelle 4 là Sono 107 giocatori 107 E ne ho messo 4 Ho messo Skoll Giorca Ftt E Ljungberg Poi andiamo a vedere che cos'è sto fan choice Qua Ah, è quello che forse avevamo fatto noi la scelta Mi sa Eh, questi non sono male Fan choice C'è Neymar Con Shane Lee De Pai Paié Paié Golovin Trequartista Perlin André De Lord Gradel Dante Adante L'avevo scelto anch'io Tomasson Raikovic Traoré Angani Gomis Mendoza Koulibaly Punta Kurt Adama Traoré Ferart Beh Neymar Eh beh Se hai la sculata e trovi Neymar 94 Eh Sto cazzo Guarda che bestia Porca troia Però è difficile Aveva anche De Pai L'hanno fatto forte Eh se Con Shane Lee Che spara comportamento difensivo 97 Per la forma fisica 4 Paié Forma fisica 4 Golovin Forma fisica 6 Buono Golovin Paié l'altro quartista non ce l'ho No Lascierei perdere Allora andiamo sulla cosa croccante I player of the weeks Ragazzi Li hanno messi di belli Però ci sono anche palloni oro Perché Hanno rimesso Ronaldo 97 Che non mi farebbe Schifo Lì da sopra quello che ho io Ecco Direi che appunto per Ronaldo Eh Salah ce l'ho già Ce l'ho già If Quindi non so Varan if Non sarebbe male perché ce l'ho normale Eh Portiere Cano Immobile Immobile Non mi faria schifo Ciruzzi Immobile Perché sta facendo da dio Gabriel Jesus 90 Non mi faria schifo Il Papu Sni Maddison Maddison Proprio no Criscito Proprio no Eh Noble E Vulei Non me ne faccio una minchia Quindi tra tutti questi Varane Ronaldo E Immobile Immobile Varane Ronaldo Allora se vai in Italia È un casino Perché Ronaldo Cirigo Immobile Papu Gomez Criscito Se vai in Inghilterra Voi sa che se Solo Salah Salah No Salah No Blanca Vulei Non so Dove che Zoga E Che Se vai in Spagna Aves Sa Che Varane Perché Spagna L'organese Altri Quindi 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 Andiamo a provare Allora Contattiamo La gente Paghiamo Con le manette My Club E schiacciamo Vai in Inghilterra Palla Nera Gabriel Jesus Ah E Questo è Tanta roba Fiore A 90 Si Ma Quasi Me lo sentivo Guarda che mi dava Gabriel Jesus Un pochetto Eh Non è malvagio Fiore 93 86 87 90 Finalizzazione 87 90 Accelerazione Colpo di Testa 77 Non benissimo Però controllo del corpo 92 Resistenza 86 Forma fisica 6 Vabbè Lo blocchiamo E andiamo avanti Non era male Gabriel Jesus Ricontattiamo La gente E paghiamo E paghiamo Vai in Italia No Sapevo Che mi dava Il portiere Guarda perché Ne ho solo due Vabbè Sirigo Lo porteremo Sirigo Sirigo 91 Cioè Stasettimana Me dura Dopo posso Buttarlo Eh Però Non ho fatto Forte Forma fisica 8 Sirigo Del Torino Vabbè Blocca Andiamo avanti E poi Allora Speriamo che Rivada in Italia Ma non me lo dà Ronaldo Ce l'ho già Ronaldo Non me lo dà Perché ce l'ho già Cioè O Ronaldo Va in Spagna Almeno Dammi Varane Oh Almeno Varane Mi lo dà No Non è neanche Varane No V Lei Mi ha Dato Che cazzo È V Lei Mi ha Dato Vai In culo Va Esa 84 Vabbè Lo teniamo Lo mettiamo Perché Alla Vinci Giù Non l'avevo Manco Portato Mi porterò Questo Però Non Non so Devo guardare V Allora Gestione Squadra Allora Qua Praticamente Andiamo a Ritogliere Conatte Togliamo Sancio E vediamo Quanto fa Sto V Lei V Lei Ma non Posso Fa 63 Vabbè Lo mettiamo Lo stesso Sto Intanto Lascio Sancio Lascio In Panca Intanto V Lei Ma non Posso Poi E Dopo Andiamo Sull'altra Squadra Vista 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 squadra Klopp Allora Praticamente Tolgo Via Gio Cansello E Mi Porto Sirigu Che fa anche 99 Tra l'altro Niente Quindi Cristiano Ronaldo Li devo rinnovare Il contratto Non l'ho trovato Settimana E Salah Ronaldo Mané Vidal Fernandinho Modric Van Dijk Varane Trippier E Alaba E al massimo Mettiamo Ginter A parte che A sinistra Ne hanno da mettere La posso mettere Anche Vidal Anche Fernandinho Non ho Il problema Del tizino Sinistra E Dopo Mi è nato Gabriel Jesus Che lo porterei A posto Di Lukaku Che era Ok Ok Che ha Il portiere A Ho solo Il tizino Sinistro Stasettimana Che è giù Cioè Se non Si stasettimana Non riesco A tornare Una valutazione Decente Spacco qualcosa Perché Avere Tutta la squadra Così Cioè Vedete come ho Attacco è B E doppia A Centrocampo Tutti B L'unico Che non è Che non ho la lettera È il tizino Sinistra Poi ho i due Difensori A Lettera B E il portiere A E volendo Ho Gabriel Jesus Che potrei sparare qui E spararmi Lì Ronaldo Cioè 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 Se stasettimana Non riesco A fare bene Cioè Veramente C'è qualcosa Che non va Nel mio account Cioè Cioè Veramente C'è qualcosa Che non va Ho poco Da scrivermi La conami Da scrivermi No Perché qua Perché là C'è qualcosa Che non va Cioè Cioè Ho poco Da dire C'è qualcosa Che non va Hanno fatto qualcosa Nel mio account Le monete Hanno detto Che ce le daranno Nei prossimi giorni Per quello Della campagna Modifica Però Io So che avanzano Ancora altre monete Che avevo fatto qualcosa Ehm Di scelere i giocatori In risalto Con le robe là Ma Mi hanno dato un cazzo Ancora Ehm Vabbè Prenderò Quelle Delle festività Vediamo Vediamo Se posso allenare Quelli che ho trovato Adesso Con le abilità Gabriel Jesus Tipo Preparatore di abilità Sì Gli lo posso dare Uno Gli da Doppio tocco Vabbè Ammurial Non so Se glielo ho dato Sì Lidar Ah Lidar fa Ammurial Quelli dovevo mettere Ammurial Lidar Ehm Dopo che cavolo L'ho trovato Ah Sirigu Sirigu Anche Anche Lidar Sirigu Riveserva Di lusso Vabbè Non è male Effettivamente Test tag serve Il primo portiere Sirigu Qua ormai Portieri Ne abbiamo Quattro Belli 94 93 91 90 Cioè Lui al massimo E Dopo abbiamo Trovato Chi era l'altro Ah Gabriel Jesus L'ho data Al portiere L'ho data Ah Le stanno a sinistra Questo qua Veronica Che piace Veronica Che ha detto Volei Volei Ma non posso Che pari Che cazzo Di squadra È Volei Scusate Per capire Perché è nato In Inghilterra Ma dove gioca Volei Ah Non è nato In Spagna Gioca nel Getafe Volei Cazzo Gioca Nelle spagnole Ah Sì Che ha segnato Ho visto Anche il gol Di Volei Vabbè Non è Malvagissimo Sì Però Forma fisica 4 di 8 Cioè Stasettimana La prossima settimana Lo faccio Svolare Lo darò a Vinicio Junior Volei O a Rodrigo Portiamo un po' Su di livelli Stasettimana Li faccio fare 10 partite Poi o a Rodrigo Vinicio Junior Cioè Vabbè Un salutone Dalle Burno Se vi è piaciuto Il video Sull'aggiornamento Di Pesh Di Pesh 2020 Lasciate un mi piace Iscrivetevi Il mio canale Un salutone Ciao 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 Grazie a tutti